Ciao e benvenuti a questo primo podcast dell'Associazione Metodo. Il Comune di Montevarchi ci ha chiesto di pensare a un progetto di prevenzione al disagio giovanile innovativo per il quartiere di Sant'Andrea. Noi abbiamo accettato la sfida e ci piacerebbe coinvolgere in questo lavoro una dozzina di giovani in gamba. Il nome che abbiamo scelto per questo progetto è Flight Zone, ovvero zona di volo. Ci piace pensare che dove operiamo le persone che ci incontrano possano imparare a volare un po' meglio, un po' di più. Gli ingredienti di questo progetto saranno la realizzazione di un cortometraggio con un regista professionista. Pensate, trasformeremo il quartiere di Sant'Andrea, una parte di esso, in un set cinematografico. Poi useremo il materiale che abbiamo girato per trasformarlo in un programma per giovani con una televisione locale. E per ultimo, ma non meno importante, per chi parteciperà a questa esperienza sarà un momento di formazione importante a livello personale in gruppo. Se hai tra i 16 e i 19 anni e ti piacciono le sfide, allora questo progetto forse fa per te. Il progetto durerà due mesi, da maggio a giugno. Se sei della zona di Montevarchi, non perderti questa occasione e scegli di volare con noi in Flight Zone. Faremo nei prossimi giorni un incontro senza impegno per spiegarvi le fasi del progetto. Non mancate davvero a questa occasione. Ciao e alla prossima!